Salve a tutti ragazzi, io sono Mike e questo è Mikestech Oggi siamo andati in un nuovo video ancora a parlare di lui, il Mavic 2 Pro Lo so, è tipo il ventesimo video che ci faccio Però ragazzi ci sono un sacco di funzioni nascoste Che non sono delle funzioni vere e proprie ma come utilizzare alla fine questo drone E ho infatti oggi una sorpresina per voi Infatti utilizzeremo questo drone non come un drone ma come un gimbal con una fotocamera Infatti la fotocamera che è montata su questo drone Che è il Mavic 2 Pro per chi non lo sapesse È una fotocamera veramente ottima Infatti è una Hasselblad con un sensore da un pollice In grado di registrare video fino in 4k a 30 fps Registrando 10 bit possiamo avere un'ampia gamma dinamica Per poter modificare poi i colori in post produzione E inoltre il gimbal stabilizza la camera veramente veramente benissimo Come sapete quando il drone è acceso la fotocamera non si può toccare Perché se si tocca comincia ad andare in palla L'applicazione si dà l'avviso che è sovraccaricato il motore E quindi il gimbal non funziona più Quindi come prima regola non toccate mai il gimbal e la fotocamera Dal momento che la fotocamera non può registrare in questa posizione Perché si invertirebbero dei motori Quando il drone è posto in verticale la fotocamera è inutilizzabile Quindi potete utilizzarlo soltanto con un piccolo gioco Non troppo ecco Io ho utilizzato questo drone a Milano Ovviamente l'ho utilizzato per questo scopo e non per farlo volare Perché già soltanto se vi vedono con le ali sul drone Potrebbero farvi delle storie Non possono darvi la multa ovviamente Però meglio staccarle visto che comunque danno anche abbastanza fastidio Potete tranquillamente aprire il drone e utilizzarlo in questa maniera Però è abbastanza scomodo visto che lo spazio è quello che è E potrebbe danneggiarsi sbattendo contro un'altra persona Se devo fare delle inquadrature dall'alto lo tengo in questa posizione E poi il telecomando nell'altra mano Mentre se devo fare delle inquadrature dal basso Ovviamente lo terrò in questa posizione Dal momento che la stabilizzazione è comunque relativa Perché un po' di tremolio c'è sempre Non muovete apposta il drone su e giù Perché comunque si vedrà abbastanza Ma cercate di stare più stabili possibili anche voi Sapete che non si può effettuare una panoramica in orizzontale Con la fotocamera sul drone Ma soltanto in verticale Quindi se dovete fare una panoramica in orizzontale Dovete muovere fisicamente tutto il drone Più movimenti sono lineari Più sono fluidi Peccato che non si possa utilizzare la modalità Active Track Ma perché serve proprio che il drone sia in volo Quindi facendo ciò Io riesco ad utilizzare una fotocamera veramente fantastica Che addirittura secondo me è migliore del M700D Semplicemente tenendo in mano questo oggeggio In effetti può essere abbastanza scomodo Perché girare con un telecomando E girare con questo Tenendolo messo a fuoco Tenendo il drone stabile Può essere abbastanza scomodo E posso capirvi Però già se si comincia ad essere in due Può essere già una cosa più accettabile Ovvio che dovete mettervi d'accordo col vostro assistente Perché dovete essere in sincronia Sia come ovviamente del drone Ma sia anche della camera stessa Quindi mi raccomando Abbiate piena fiducia nel vostro assistente Inoltre la batteria Dura veramente veramente tanto Visto che comunque nel drone la batteria Sarebbe tutta utilizzata per i motori Come display chiaramente Utilizzerete quello del vostro iPhone Che va inserito nel normale telecomando Le antenne tenetele pure chiuse Visto che siamo molto vicini al drone E vi consiglio anche di staccare i joystick Visto che non c'è da utilizzare Effettivamente il telecomando Serve solo per vedere le immagini Qualche giorno fa ho provato a realizzare quindi Un video in piazza Gaiavolente a Milano Tramite questa tecnica Ditemi cosa ne pensate E vi consiglio anche di staccare i motori Come avete visto ragazzi Questo è un video veramente veramente corto Perché dura soltanto 45 secondi Io ho registrato in 2.7k a 60 fps Da un scalato a 1080p a 30 Quindi sono riuscito a fare lo slow motion In un pixel in realtà ne vale 2 Visto che c'è maggior dettaglio E poi ho messo anche dei letterbox per rendere il tutto più cool Ovviamente ho applicato anche una color correction Visto che il filmato era in HDR Sembrano molti termini tecnici campati in area Però fidatevi che c'è uno studio tutto dietro questo Anche da parte mia Spero che questo video vi sia piaciuto È un video un po' più discursivo Un video più teorico Però vi do anche dei consigli Su come fare delle riprese meglio Ditemi cosa ne pensate giù nei commenti Da Mike è tutto E ci si becca nel prossimo video Bye Grazie Grazie Grazie